ciao a tutti eccoci qua siamo tornati è da un po che non facciamo video su questo canale perché naturalmente data la situazione che stiamo vivendo non ci siamo potuti trovare realmente io e nico che abitiamo a qualche chilometro di distanza quindi ci siamo presi un po di tempo per organizzare meglio questi video che da qui in poi cercheremo di portarvi con abbastanza continuità su questo canale naturalmente anche noi ci siamo attenuti a tutte le norme di sicurezza che ci hanno dato e che ha dato il governo naturalmente speriamo l'abbiate fatto anche voi speriamo tutti voi siate stati al sicuro sia tutti bene anche le vostre famiglie e però pensiamo che sia arrivato il momento giusto per cominciare a parlare di sneakers finalmente un po ritornare con un po la mente serena a parlare di sneakers perché è un po quello che facciamo che era da già un po che volevamo iniziare a fare questi video vero discussion che magari all'inizio potevamo essere solo io e malica a parlare di alcuni argomenti sullo sneaker game e magari se avete di consiglio comunque degli argomenti di cui volete sentire parlare scrivetecelo nei commenti e chissà andando in avanti magari riusciremo a invitare qualche ospite a fare questi video appunto più chiacchierata più diciamo podcast e appunto sviscerare meglio tanti argomenti appunto molto interessanti secondo noi e oggi vogliamo parlare da forse un argomento un po scontato in questo periodo ovvero l'impatto che questo virus nel bene nel male sta avendo sullo sneaker game infatti secondo me è stato tipo nike la prima a chiudere tutti i negozi ormai qualche mese fa e a ruota tutti i negozi sono andati a chiudere sempre di più forse in america ci hanno messo un po più di tempo hanno aspettato di avere dei veri casi per chiudere certi negozi dopo sono andati alla chiusura totale e questo comunque si può anche vedere sul fatto che soprattutto nike un po meno adidas per quanto riguarda l'ismo ma soprattutto nike abbia rimandato un sacco di jordan infatti anche le dmp che sono uscite un paio di settimane fa dovevano uscire secondo me tipo inizio aprile o comunque fine marzo e sono state pusciate veramente veramente tanto quindi veramente un sacco di release sono state appunto rinviate di una o due settimane alcune non sappiamo ancora quando usciranno però comunque capiamo la situazione non è di certo questo di cui ci dobbiamo lamentare sì la voglio dire che la situazione è veramente assurda perché da un giorno all'altro è cambiato praticamente tutto lo stile il nostro stile di vita e tutte le nostre abitudini e sì in america ci ha messo più tempo perché un po come noi all'inizio sottovalutavamo un po la reale situazione però effettivamente adesso tutto il mondo si è accorto di quello che sta veramente succedendo e questo ha naturalmente avuto un impatto sul modo delle sneakers che attualmente che all'inizio soprattutto del virus era una cosa secondaria però naturalmente adesso che cominciano pian piano a riaprire le varie imprese i vari negozi cose del genere si farà sentire penso soprattutto nel lungo periodo penso che siamo stati d'altra parte un po anche fortunati perché comunque se questa cosa fosse capitata diciamo anche solo vent'anni fa non avremmo avuto tutti questi mezzi tecnologici sia per sentirci con gli amici sia per comunque tenerci in contatto netflix instagram comunque resti in contatto con le tue passioni grazie a queste nuove tecnologie poi lo stesso acquistare scarpe online e penso che probabilmente se avete disponibilità economica questo può essere uno dei periodi migliori dell'ultimo periodo per acquistare scarpe online perché sono veramente ottimi sconti e se fosse stato solo vent'anni fa sarebbe stato veramente difficile resistere a questo questo lockdown invece diciamo che nella sfortuna siamo stati anche fortunati sono stati fortunati secondo me anche tutti i brand che alla fine possono veramente continuare a vendere online perché appunto in un mondo senza internet si sarebbe fermato veramente tutto e anche tutti i lavoratori di questi brand sarebbero stati veramente in difficoltà perché appunto non vendendo più scarpe non essendoci più profitto e mancavano veramente i soldi per per gli stipendi alla fine è quella la cosa forse più importante dare dei soldi alla gente comunque che lavora e che appunto in questo periodo è a casa e purtroppo non appunto non può lavorare anche i piccoli piccoli medi venditori comunque che ci sono da tanto tempo e che magari non avevano un sito internet o qualcosa del genere con questa cosa siamo veramente accorti che ormai siamo entrati in un nuovo capitolo c'è importantissimo avere un sito web o qualcosa del genere che ti permette di tenerti in contatto online con le persone perché adesso più che mai che non puoi avere il rapporto produttore cliente così classico nel negozio adesso è importantissimo avere un sito internet e chi lo aveva si è trovato in quel modo coperto mentre chi non aveva niente sicuramente sarà chi accuserà di più corno infatti in questi giorni sto vedendo delle storie di double clutch che è un negozio di verona e che appunto loro avendo un forte elemento online per quanto riguarda il loro negozio sono stati avvantaggiati rispetto a tutti i piccoli negozi che invece purtroppo non possono vendere online perché o sono vecchi a scuola e quindi no vogliamo soli clienti in store oppure magari non ci avevamo mai pensato a una cosa del genere e purtroppo questa volta gli è andata male e quelli che appunto avevano investito su un negozio online adesso stanno vedendo veramente i frutti di questo lavoro e appunto è stata una scelta di marketing e loro l'hanno azzeccato invece per quanto riguarda le grandi produttori nike adidas comunque i grandi brand penso che a loro faccia un po di differenza perché naturalmente hanno dovuto chiudere tanti store una parte dei profitti comunque sarà inevitabilmente andata però penso che non sia stato una grande cosa per loro continuano continuano a fatturare un sacco stanno facendo un sacco di promozioni sui loro siti quindi continuano ad entrare molta liquidità quindi penso che per loro non sia stato come come per altri settori il settore delle scarpe non abbia almeno dal punto di vista dei produttori non abbia accusato così tanto il colpo perché ci sono tanti mezzi le scarpe comunque sono un bene diciamo accessorio soprattutto le sneakers che dalla fascia dei 150 euro in su magari non proprio tutti possono permettersi però comunque è lo stesso un bene abbastanza dal costo ridotto rispetto a soprattutto macchine o cose del genere che hanno un costo veramente elevato che sicuramente le persone quando in questo momento magari non hanno così tanti soldi da spendere cercheranno sicuramente di tagliare sulle spese più eccessive come acquisto di nuove macchine o beni più esosi e mentre per le scarpe comunque magari ok compri un paio in meno però penso che non farà così tanto a differenza sui grandi brand invece una cosa molto interessante è che secondo me c'è un po' da da parlare perché la vedo con due sfumature è il fatto per esempio che ci sia anche un po' di competizione anche lì tra Nike e Adidas nella produzione delle mascherine e penso che la prima ad annunciare di produrre sia stata Nike e subito dopo l'ha seguita anche Adidas nella produzione di queste mascherine e penso che è anche naturalmente ci sono state fatte anche moltissime donazioni moltissime raccolte fondi cose del genere e naturalmente la causa è super buona una cosa del genere però penso sempre che c'è anche un sottofondo di marketing in queste cose perché penso che molte volte se queste grandi aziende volessero veramente fare della beneficenza con zero interesse potrebbero convertire la loro produzione stando zitti dando semplicemente queste cose a chi ne ha bisogno invece è uscito abbastanza presto sui social Nike e addirittura Adidas a fare le maschere con la loro nuova tecnologia 3D non lo so com'è l'impressione che ci sia qualche qualche sottofondo di marketing in tutta questa cosa non so cosa le dici tu beh secondo me è abbastanza ovvio oltre comunque il fatto che ci teniamo a dire che è una buona causa perché soprattutto anche riaprire alcune aziende così grandi e dare continuare a dare lavoro a tante persone comunque è giusto comunque poi se le mascherine non so adesso se ci sono qualche accordo con l'America o con altri stati magari un prezzo agevolato o una roba del genere comunque è importante che chi veramente ha le possibilità di fare in grande quantità queste mascherine lo faccia ovviamente sempre il primo che ci arriva è quello che tra virgolette si prende un po' tutto il merito e Nike e Adidas essendo delle compagnie miliardarie certo non hanno perso occasione per farci del marketing era anche forse un po' abbastanza scontato anche New Balance adesso che mi viene in mente forse New Balance sono stati veramente i primi e penso che abbiano avuto un grande ritorno di visibilità da questa cosa dell'essere primo cioè è bello una cosa bella però non mi piace di tutto che anche molti grandi marchi di moda come Armani Armani oppure anche LV che ok hanno fatto grandi donazioni milioni di dollari però non lo so come sempre l'impressione che vuoi far vedere cioè perché alla fine per queste grandi case 3 milioni non sono niente però invece per gli ospedali sono una gran cosa quindi facendo vedere che sei molto generoso però mettendoci il tuo nome mettendoci il tuo nome in prima persona e allo stesso tempo puoi avere un qualche ritorno che cioè non è niente di male non è illegale però non so allo stesso tempo è un po' dubbio per me comunque penso che la maggior parte anche di brand secondo me tipo anche Under Armour è stato tipo uno dei primi a annunciare diciamo di appunto voler costruire appunto queste mascherine o secondo me vabbè alla fine lo fanno tutti tutti l'hanno annunciato alla fine boh non so se ci sarà veramente un ritorno economico per tutti forse solo per i primi che l'hanno annunciato veramente ma alla fine ognuno si è giocato alle sue carte è una buona causa perché questo lì delle mascherine d'ora in poi servirà sempre di più soprattutto nel lungo periodo e quindi alla fine è così una cosa un'altra cosa curiosa invece di cui volevo parlare è invece una diciamo bastonata che ha preso StockX in questo periodo che ha dovuto purtroppo lasciare a casa un paio di centinaia secondo me di lavoratori non so se ho sentito il 12% cioè non so quanto sia il totale delle persone che lavorano a StockX ma ho sentito circa un 12% delle persone che lavorano ah 12% ah no allora sei dei dati più precisi mi fido di te e comunque e comunque abbiamo annunciato che dal 26 aprile ci sono delle nuove fees delle nuove tasse da pagare per chi compra su StockX e anche qui diciamo che non è stato bellissimo il periodo naturalmente se un'azienda in difficoltà purtroppo queste sono scelte che deve fare lei però ad esempio subito ebay su Twitter non so a povoneggiarsi tra virgolette dicendo no invece noi continuiamo così tipo sulle vendite oltre i 100 150 dollari non mi ricordo ci sono pochissime fees o comunque nessuna fees nessuna tassa e non so come l'ho vista cioè da parte di StockX purtroppo spero spero per loro fosse una scelta dovessero prendere per forza e non magari solo per risollevarsi un po' perché non so lasciare a casa il 12% dei lavoratori in questo periodo ma soprattutto anche in America avevo sentito che ci sono un sacco di lavoratori lasciati a casa proprio licenziati e cioè questo è veramente un casino questo si riflette su tutto il mondo del lavoro abbiamo visto anche sul mondo dello sneaker game per quanto riguarda appunto StockX ma non lo so io quando è uscita prima la notizia del fatto che avessero aumentato del 3% una cosa del genere esatto le tasse sui compratori e lì avevo detto ok per me non era una gran cosa perché chi compra su StockX comunque sa di dover comprare già un prezzo leggermente sopra al prezzo di mercato però è disposto a questo per l'autenticazione per tutto il processo e ci sta che magari in un periodo così difficile quando ci sono meno entrate StockX aveva bisogno di aumentare leggermente questa tassa per me non è stato niente di che però invece quando qualche giorno dopo è venuta anche fuori quest'altra notizia del licenziamento dei dei vari lavoratori mi ha fatto un po' strano perché contemporaneamente tutte queste due cose mi sembravano andare un po' un po' contro senso e infatti ho visto anche un post e anche un commento di PJ Tucker su un post non mi ricordo su che post di Instagram però che comunque parlava di questa cosa che anche lui si lamentava del fatto che aumentare del 3% le fees e allo stesso tempo licenziare il 12% di lavoratori sembra non può essere in contrasto perché se aumenti le fees si presuppone che tu lo faccia perché cerchi di mantenere più lavoratori possibile di continuare a mandare a far funzionare tutta la tua produzione o c'è la possibilità che StockX sia veramente in crisi in questo periodo e quindi abbia dovuto per forza di cose fare queste due mosse oppure non lo so mi sembra può essere anche che la dirigenza in questo momento non sia veramente collegata alla realtà e che quindi pensi solamente quanto utile faccio in questi mesi comunque e ci sono delle spese eccessive e queste vantagliate questo sarebbe secondo me un po' scorretto invece se d'altra parte vedono che non ci stanno dentro con i costi allora ok questo può giustificare in parte la cosa però non lo so non ho veramente notizie di insider o cose del genere quindi non saprei dire riguardo a questo però mi sembra comunque allo stesso tempo un po' strano perché alla fine StockX è tutto mercato online e è vero che adesso magari i prezzi si stanno abbassando anche su certe sneaker che magari riescono in questo periodo fossero ucciti in un periodo senza questo virus avrebbero avuto dei prezzi magari un po' migliori sicuro però comunque è tutto mercato online c'è ancora molta gente che continua a coppare le sneaker soprattutto quelle limitate continua a venderle non so secondo me alla fine sarebbe bastato solo aumentare forse un po' le fees e magari mettere anche in cassa integrazione qualche dipendente ma lasciare a casa veramente il 12% secondo me è veramente troppo penso che StockX abbia due o tre house non so come dire posti dove comunque autentica le sneakers e non so quanti lavoratori ha effettivamente avrà qualche lavoratore sul sito qualche lavoratore per autenticare le sneakers però non so mi fa un po' strano perché comunque non è che hanno poco interesse sulle sneakers che vendono hanno sia una tassa sui venditori sia una tassa sui compratori quindi comunque il loro profitto da ogni vendita di sneakers è tanto e sono il maggior venditore di sneakers di secondi parti nel mondo quindi non pensavo che la situazione fosse così difficile anche perché altri venditori comunque medio grandi come appunto ebay oppure anche eclact non hanno fatto nessuna mossa del genere quindi mi sembra un po' strano perché altro nell'ultimo periodo secondo me StockX aveva fatto anche una specie di accordo con Nike per le release nel futuro diciamo affiancare ad ogni scarpo diciamo un su QR code e vedere quali negozi tramite questo QR code spediscono più scarpe StockX quindi per limitare il backdoor e cose del genere questa è un'iniziativa che secondo me è molto bella perché alla fine il backdoor secondo me è una delle cose peggiori che ci sia nello sneaker game attualmente perché per me non c'è come dico sempre non c'è assolutamente niente di male nel recel però quando tante paia vanno semplicemente backdoor perché un proprietario di un negozio ha un amico oppure direttamente il proprietario stesso decide di non vendere al pubblico ma vendere direttamente sul mercato secondario per raddoppiare o anche triplicare il valore della scarpa questo cioè non è per niente meritevole da parte del negozio stesso quindi sì quando diciamo non dai le stesse opportunità a tutti di comprare una scarpa ma semplicemente ai tuoi amici gliela dai così sì ok fossimo dalla parte di quelli che magari ricevono le scarpe in backdoor diremmo no vabbè ci sta il mio amico gestisce il negozio così però naturalmente vedendolo dal punto di vista dello sneaker game totale è un po' uno schifo c'è poco da dire però anche lì non so sinceramente quanto questa cosa possa influire perché non so magari ok si fa così ma gli altri punti vendita magari no come clecto o anche semplicemente venderla a privati non so forse limita un po' le vendite per le lease magari limita magari le vendite per le lease perché magari certe scarpe prima di essere rilasciate qualche giorno prima hanno dei prezzi molto più alti a volte hanno dei prezzi più bassi a volte invece succede che abbiano dei prezzi più alti magari uno se la prende in backdoor la spedisce su StockX e ci fa molti più soldi di quanto ce li possa fare magari una volta rilasciata la scarpa quindi forse questo questo fenomeno sarà un po' cioè diminuirà un po' però non so sinceramente quanto possa terminare del tutto probabilmente non succederà non so se tu avevi qualche altro io avevo scritto che già questo anno che già questo anno all'inizio non sembrava super promettente adesso con tante release che vengono posticipate e cose del genere probabilmente sia il 2020 che il 2021 dal punto di vista delle release e delle collaborazioni non sarò un gran che perché naturalmente non si possono stringere molti contatti in questo periodo quindi pure non si può lavorare veramente ad esempio tra Nike e un altro collaboratore a stretto contatto quindi si farà un po' più fatica a vedere secondo me grandi sneaker grandi collaborazioni nel breve periodo poi dopo tutto si risolverà probabilmente tra due anni magari collaborazioni molto più semplici per quanto riguarda forse solo qualche colorazione speciale dedicata non so a un Travis Scott a un giocatore a una celebrità o comunque cose abbastanza diciamo semplici da preparare anche lavorando a distanza però non lo so forse un lavoro fatto come ad esempio fa Virgil di appunto stare proprio sulla scarpa lavorarci sentire tutti i suoi collaboratori andare da Nike così forse sarà un po' più difficile però tra l'altro secondo me Virgil aveva già una nuova silhouette in programma quindi forse per un po' riusciamo a vedere qualche release abbastanza hit forse dovrebbero uscire le 4 e dice verso settembre o giudì comunque boh speriamo però un'altra cosa secondo me che sarà un po' strana è che di solito prima dei qualche giorno prima qualche settimana prima o anche mesi prima della release si vedono sempre magari le celebrità o i giocatori indossare queste nuove scarpe che devono uscire super hyped up magari indossarle sul campo o nel prepartita o comunque eventi degli eventi esatto esatto e quindi non si vedrà più quindi magari questo avrà anche un leggero impatto sull'hype che avranno vari tipi di scarpe cose del genere perché l'hype alla fine molte volte deriva dal fatto che molte persone collegano quella scarpa a un momento in cui vedono il loro personaggio preferito o qualche persona che è stata d'ispirazione per loro indossare quella scarpa quindi non so forse avrà un leggero impatto negativo sull'hype che non per forza è una cattiva cosa però questo spesso si ripercuote su il resale e tutta questa cosa quindi mi aspetto che sì come sta un po' anche succedendo in realtà che le scarpe rilasciate da qua a probabilmente un anno o qualcosa del genere avranno un resale leggermente minore di quanto ci si aspetterebbe normalmente anche perché comunque è un periodo abbastanza senza abbastanza un periodo di crisi la gente ha meno soldi da spendere in virgolette bene di seconda di non prima necessità come sono le sneaker che sinceramente non sono assolutamente necessarie o forse con per quanto riguarda nuove collaborazioni così vedremo tanti on fit in casa magari di Lebron Travis o del Beckham Junior quindi probabilmente vedremo esatto vedremo delle delle foto su sneaker su tappeti invece che sul red carpet semplicemente sul carpet invece è l'unico che non non si interessa di niente continua sempre per la sua strada e Kanye che in questo periodo droppo praticamente una Yeezy ogni settimana tra 700 380 e 350 v2 e tra l'altro le ultime colorazioni delle 350 v2 mi sembrano tornate un po' sulla via giusta è già qualcosa secondo me e ho visto che uscirà anche una colorazione a settembre nera con la Mizzol trasparente quella secondo me è veramente bella Asriel tipo una roba del genere esatto ho mancato quelle tonalmente nere che secondo me ci stavano abbastanza ancora non a livello delle bread però secondo me abbastanza buone ne male quindi niente per la 350 v2 si va per settembre per la mia 350 v2 si va a settembre si devo ammettere l'ho vista anch'io stamattina hanno cominciato a postarle tutte le pagine Disney che seguo naturalmente ho visto ma Malik Malik Samb piace questo elemento questa foto ma comunque sono veramente fighe all'inizio la prima volta l'ho vista e ho detto ci penso o no ho detto no però non lo so arrivare a settembre è dura perché tra l'altro non so come ci sono già foto on fit so che è quel disgraziato che esce di casa adesso per fare le foto on fit alle iz però te hai fatto qualche acquisto durante la quarantena durante questo periodo beh acquisti di sneaker sono spoiler un po' per il canale che sono sneaker non personal ma sono sneaker che volevo assolutamente vedere di persona per il resto no personal ho guardato qualche sito per vedere qualche sconto ce ne erano veramente interessanti però ho detto io faccio uno spoiler come avete visto su Instagram ho postato una foto delle Kurt Purple che abbiamo ne abbiamo acquistato un paio purtroppo le ho già vendute quindi non sono riuscito a farci un video e invece personale quando ho visto a che prezzo erano ho detto devo farlo ho comprato magari faremo una puntata di tanto fuoco poco soldo ho comprato a 100 euro precisi precisi un paio di Air Max 90 volt sulla sneaker app non sul app di Nike che ho visto che sono state rifatte completamente le Air Max 90 infatti dovrebbero uscire le Air Max 90 Infrared e quella Cop Sicuro però non riuscivo ad aspettare poi sapevo che le Infrared comunque le avrei messe poco allora ho detto compro queste che comunque ci stavano veramente la shape della scarpa è veramente bella non le ho ancora indossate purtroppo però dicono che siano veramente molto comode quindi sono contento del mio acquisto dai beh direi che abbiamo parlato abbastanza sì è inutile che guardi orologio abbiamo parlato abbiamo parlato vediamo come viene questa prima puntata di questo non so dobbiamo ancora dargli un nome a questa serie a questo nuovo format comunque appunto se avete magari delle altre domande su questo su questo argomento magari scriveteci sia nei commenti ma anche su Instagram perché su Instagram ogni venerdì facciamo una specie di Q&A prendiamo 5 domande adesso vediamo se prendere 5-10 e rispondiamo magari così anche per tenervi compagnia in questa quarantena forzata quindi appunto se avete dei consigli scriveteci nei commenti vai Malik chiudila tu basta grazie di aver guardato questo nostro video scriveteci appunto nei commenti qualsiasi cosa qualsiasi cosa che vi venga in mente riguardo al tema sneakers noi cercheremo in questo periodo di portarvi dei video come questo discussion cercheremo di portarvi qualche ospite relativo al mondo delle sneakers per comunque creare un format comunque anche qui che penso che non ci sia in Italia attualmente cercheremo di sentire più persone la loro opinione su cosa ne penso sul mondo delle sneakers speriamo sia una cosa interessante per voi grazie per aver guardato questo nostro video questa è N.M.Kicks ciao a tutti ciao a tutti e state a casa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti